Ma io mi chiedo come cazzo si fa, ma porca la puttana troia, 4 a 1, 4 a 1, ma come Cristo si fa, ma proprio bandiera bianca questa partita, bandiera bianca sta cazzo di partita, ma vaffanculo, vaffanculo dai cazzo. Oggi Donnarumma inguardabile, inguardabile oggi Donnarumma, non so che minchia li sta prendendo, figa, non so se c'entra il contratto o perché proprio sta facendo schifo perché non c'è più la squadra, ma davvero sembra che Milano vuole andare all'Europa League, perché non è possibile che ci facciamo prendere 4 gol dalla Roma, ok? Però già una cosa che 4 gol direi fantastici, perché a parte il rigore che quello stronzo di Palette deve sempre prendere un rosso, se no a stagione, se no non è contento. Se non sbaglio questo è il quarto rosso che prende. Durma ha anche quasi tutti i rigori, però De Rosi li ha messi nel culo e adesso siamo 4 a 1, mannaggia la pizzo, mi devo trattenere. Poi doppietta di Zecco, prima un gol fantastico, con un gol di testa, dopo ha fatto un gol ex, le scearaui. Ha fatto un gol ex, cioè ti pareva che ha fatto un gol ex, eh? Ti pareva? Cioè, c'è tanto che dà il risultato, eh? C'è tanto. Poi è vero che Paris fa gol, cioè per la partita, un minuto fa gol la Roma. Vabbè, sembra che proprio Milano vuole andare all'Europa League, io mi sono stancato, davvero, perché non posso vedere Milano così. Stavo guardando a vedere Milano-Bologna, ma mi sa che i biglietti non li prendo più, perché se vado allo stransino per vedere Milano perdere malamente contro il Bologna, piuttosto mi sto a casa a guardarmi, che cazzo ne so, ad ascoltarmi la Dark Polo Gang, piuttosto. Ma piuttosto mi sparo 50 volte la canzone della Dark Polo Gang. Che cavolo. Mi scusami il video sfogo, ma non è possibile, non è possibile, aspetta che giusto non tengo la luce. Non è possibile, davvero, non è possibile. Non è possibile. Mi scusami il video corto, ma non ce l'ho trovato da dire, non è possibile. Mi scusami il video corto, ma non è possibile, 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 non è possibile